Una grande rinascita. A proposito di nascite, l'ospite, oggi un puntatone, una puntata fantastica con degli ospiti speciali. A proposito dell'ospite che volevo presentarvi, è nato il 10 ottobre, anche se è stato registrato, prima succedeva spesso, l'11 ottobre. Ma una curiosità mi ha colpito, perché ha detto il 10 ottobre sarebbe stato perfetto, perché la decima lettera dell'alfabeto L, sarei stato io, Gabriele Lavia. Ma l'hai detta questa cosa, Gabriele? Sì, sì, anche perché detesto il numero 11, e io dico sempre il 10. Ma l'hai sgridata la mamma, il papà? Anche se ora, siccome non so, la RAI è diventata tutta molto rigida, un po', e allora c'era scritto data di nascita, e ho scritto 11, per la prima volta nella mia vita. Dobbiamo compilare un foglio quando si entra in RAI. Volevo però, invece di dire l'anno, volevo dire come se avessi vent'anni di meno. Perché mi dicono che li porto bene, ma forse vent'anni mi sembra un po' eccessivo. Non la sappiamo, la qualità neanche te la chiedo. E' tantissimi, sono tra i più vecchi ormai. Sei fra i più vecchi. Sì, forse ho un anno più di Enrico, che l'ho visto uscire Enrico Montesano. Enrico Montesano. Ma ha detto, oh, dice, te li porti bene. Ma anche lui ha vent'anni. Ma anche lui ha vent'anni. Quindi, vieni, vieni, vieni. Per ricordarci questa ammedea, questo debutto. Guarda, sono molto contento di tornare a Taormina. Dovevo fare un recitalo, due recitalo, non mi ricordo. E ho detto al mio amico, Ninni Panzera, che insomma è il direttore di Taormina. Dico, ma no, riportiamo il teatro. Ma cosa, cosa? Ma guarda, quest'anno in Sicilia non hanno mai fatto le tragedie, facciamo una tragedia. Ma come si fa? No, la riscrivo per due. Quindi tu hai riscritto l'amedea per due. Non ho riscritto, ho trascritto per due. Non ho cambiato una parola. Infatti nel comunicato stampa dici, fedele alla parola, infedelissimo alla drammaturgia. Tu hai preso medea, ci sono due attori, un maschio e una femmina. Lei mi corregna se il baglio, maestro. Marito e moglie. Federica Di Martino e Simone Toni. E che succede? Niente. Invece cosa è successo? È successo che invece di essere alla drammaturgia di Euripide, l'abbiamo portata alla drammaturgia di Strindberg, che diciamo è il prototipo della drammaturgia a due personaggi. Ma credo che sia un'operazione legittima e... È necessario. Non è venuta male, credo. Di questo sono assolutamente convinto. Io sono... Gli attori sono molto bravi, quindi... E tu sei un regista straordinario, insomma. Beh, adesso... Visionario. Vi ringrazio. Mentre parlavi sono passate le immagini bellissime di Taormina e adesso poi parleremo invece un'altra data, 11, 10, 8, Medea, ma poi c'è un 9 al quale torneremo. Ma adesso andiamo al 1974, un già vecchio Gabriele Lavia, le fiabe dell'albero. Le fiabe dell'albero! C'erano una volta 25 soldatini di stagno, che erano tutti fratelli perché erano nati da un unico vecchio cucchiaio di stagno. Avevano il fucile in spalla, il viso diritto in avanti e tutti quanti l'uniforme rossa e turchina. Come erano belli, bellissimi. La prima cosa che udirono a questo mondo, appena fu tolto il coperchio dalla loro scatola, furono queste parole. Oh, dei soldatini di stagno! A pronunciarle era stato un bambino che poi si mise subito a battere le mani. Gliel'avevano regalati perché era il suo compleanno. E lui li mise tutti in fila sopra il tavolino. I soldatini si assomigliavano tutti come delle gocce d'acqua. Ce n'era uno solo diverso dagli altri perché aveva una gamba sola. Era stato fuso per ultimo e lo stagno del cucchiaio non era bastato. Però egli se ne stava ritto sulla sua unica gamba come gli altri su tutte e due. Fu proprio a lui che capitò una strana sorte. 1974, eri un bambino, ci raccontavi il soldatino di stagno. Io avevo 8, 9, 10 anni e quindi ero lì, rimanevo in casa. Ma non ti piace riguardarti? No, non mi piace di guardarmi, non mi piace mai guardarmi. Non mi guardavo nemmeno quando si facevano quelle cose che poi si rivedeva in registrato. No, non mi piaceva. Era bello quando alla Rai facevano queste cose. Non tanto, per gli attori diceva, cosa fai? Ma faccio una favola. Ah che bello, pago l'affitto. Per noi era pagare l'affitto. Però è il piacere dell'ascolto, la narrazione. Adesso però rivederlo, mi piacerebbe che lo avessero i miei nipoti. A proposito di quella televisione, di quelle narrazioni, mi viene in mente, mi piace ricordare per un momento con te Gianrico Tedeschi, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Gianrico, eh, Gianrico era una persona speciale. Una volta mi raccontò la sua vita quando andò in campo di concentramento e mi raccontò quello che accadde, perché in campo di concentramento ottenne il permesso di mettere in scena Spettri di Ibsen. E lui faceva la parte di regina, l'attrice giovane, perché tutte le parti venivano fatte dagli uomini. Dico, ma tu devi scrivere, Gianrico, una commedia musicale in un campo di concentramento dove un gruppo di uomini mette in scena Spettri di Ibsen. E ebbero molto successo anche presso i nazisti, gli ufficiali, che osservavano lo spettacolo. Che persona meravigliosa Gianrico, non avete idea. Un altro uomo. Non avete idea che meraviglia. Una volta mi disse, la prima cosa che io feci in televisione la feci con lui. E lui ha sempre fatto le parti dei vecchi, perché ha avuto da subito, quando aveva trent'anni, i capelli bianchi. Allora gli facevano fare i vecchi, perché così risparmiavano con la parrucca. E lui era seduto, e io facevo l'attor giovane, e l'attor giovane sta sempre in piedi. L'attor giovane che soffre per amore? E certo. Anzi, se poi invece è un po' strano, non sta seduto, sta in posizioni strane. Ma per otto ore di seguito, i fuochi, le cose, le luci. E Gianrico mi diceva, vedi, tu sei un attor giovane, sei destinato a faticare. E lui stava seduto in poltrona. E lui è il vecchio che faceva seduto. Che bello, che bellissimo ricordo che ci hai regalato di Gianrico Tedeschi. Ricordo l'8 agosto, Medea, questa trascrizione di Gabriele Lavia, una moglie e un marito. A proposito, adesso ci vediamo, scende da un matrimonio. Tu e la guerritore. Ma un momento. Tu invece non abiti più in centro? No, per carità. Abitiamo in un casermone di cemento armato, in periferia, fuori città. Vista stupenda però, eh? Su un altro casermone di cemento armato. Ah! A casa nostra ci sono degli infissi che fanno veramente schifo. Abbiamo sempre una corrente d'aria infernale, le tende svolazzano in continuazione. A Paola questo posto piace un sacco. Dice che è in armonia con la sua concezione delirante del mondo. Le dà un delirio di sicurezza. Per Paola tutto è un delirio. A me non me ne frega niente di dove sto. Per me un cesso vale l'altro, sai. Siamo provvisori, amore mio. Siamo inutili e provvisori. La sicurezza ognuno di noi la deve trovare dentro se stesso. Stavamo osservando. Bellissimo. Ricordi in queste immagini molto Lorenzo. Lorenzo Lavia, tuo figlio. Eh, sì. Mi ricordo. Mi ricorda. Mi ricorda, ti ricordi. Sì, sì. Io ricordo e voglio ricordare anche Lucia Lavia, che ho potuto vedere in Shakespeare in Love, un'altra figlia d'arte. Sì. Eh, Lucetta sì. Lucetta sì. Mi piace, mi piace. Lucetta è speciale. È speciale. Lucetta la chiami? Noi la chiamavamo Lucetta in casa ed è rimasta Lucetta ancora adesso. Bella. Bella e brava. Mi piace questa specie di timidezza di Gabriele. Stai lì, ti stai abbracciando. Ti vuoi bene Lavia? Non so, se stare appoggiato mi sembra brutto. Stare così mi sembra brutto. Poi il microfonista mi ha detto, ma si vede il filo. Allora non ti preoccupare che... Ah, e quindi stai, stai... Lo faccio sì al mio amico... Perché noi vogliamo mantenere viva e giovane la tua figura anche lì, con queste posizioni assurde. che lo possiamo trovare anche noi. Allora, l'istancabile Lavia a Taormina, se l'otto dirige semplicemente Medea, il nove invece sta in scena. Sì, con che cosa? Non lo so. Te lo dico, sogno di un uomo ridicolo. Ah, lo dico sempre, mia moglie dico sempre ricordamelo, ricordamelo. Il sogno di un uomo ridicolo, è Dostoyevsky o sbaglio? E' uno degli ultimi racconti di Dostoyevsky, il quale, quattro anni prima di morire, ha scritto questo racconto. E questo racconto è una persecuzione per me. L'ho conosciuto quando avevo sedici anni il racconto. Poi Giancarlo Menotti una volta mi chiese, dice, ma perché non mi fai qualcosa per Spoleto? Io dissi, il sogno di un uomo ridicolo. Ma mal me ne incolse, perché poi dovevo impararlo a memoria, tutto a memoria. E a un certo punto, mi ricordo il giorno, perché era il giorno della tragedia di Vermicino, quel giorno io non sapevo che cosa fosse successo. Stavo provando e scappai. Scappai dicendo non ce la farò mai. E i miei due assistenti, Franco Però e Luca Barbareschi, mi vennero a prendere a via della consulta. Dice, no, torni, te la facciamo imparare noi. A male parole, anche a spintoni, a botte, me l'hanno messa in testa. E non l'hai più dimenticata. E ancora lo faccio. Tanto che il nove prossimo, il sogno di un uomo ridicolo, Dostoevsky, c'è un uomo, una pistola, un uomo che vuole uccidersi, va a dormire, è quello, no? Più o meno, lo hai raccontato bene. L'ho un po' impappocchiato. Vabbè, ma io... Al teatro antico di Taormina. Ah, certo, al teatro antico di Taormina. E quando penso all'avia, penso ai masnadieri. E quando penso ai, penso ai, penso ai, penso ai, penso ai. Signore, 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 signore. Signore, signore, signore. Signore, signore, signore. Certamente è cominciato molto prima del V secolo a.C., è nato molto prima della Grecia, anche se i greci poi hanno in qualche modo messo in ordine a questa strana cosa. Hanno trovato degli avanzi di palcoscenici di legno prima dei teatri di marmo che poi conosciamo e che ancora ci sono. Tranne a Roma che sono stati tutti distrutti, ma voglio dire teatri romani che imitavano i teatri greci. Il tempo che passa ti infastidisce? No, adesso mi vedo qua con le cose bianche e mi sorprendo perché mi sento ancora con i capelli rossi. Sai, quando ero ragazzo mi chiamavano il Roscio Maledetto. Il Roscio Maledetto. Eh, il Roscio Maledetto è il mio soprannome. Ma ce l'hai ancora rossi i capelli? Sì, sì, sì. Però qui adesso farà due o tre anni questa roba qua. Ma i capelli forse no. Mia madre è morta con tutti i capelli rossi. Solo una frezza bianca qui che io le ho rubato qui o qui. Non so. Ma c'è tempo. Lascio a Roberta i saluti, la chiusura e ricordiamo l'otto e il nove. Otto e il nove agosto, questi due grandi appuntamenti di un teatro che riparte. Anzi, noi l'augurio lo facciamo al teatro che dopo questa pausa forzata è ripartito e deve ripartire con grinta. Sì, sì, sì. Taormina. Taormina è magnifica, ma lo sapete perfettamente. Tg1. Noi ci salutiamo. Grazie per essere stato con noi. Ciao ragazzi. Ci vediamo alle 8.30 adesso Tg1. Grazie. Grazie a tutti.